tonsuri buongiorno oggi una rasatura fuori programma perché avevo in mente ben altro per oggi questi giorni appunto avevo in mente altro non sono riuscito a radermi oggi siamo arrivati sabato di nuovo non riesco a fare quello che volevo fare però devo comunque essere presentabile mi perdonerà l'amico cobra lui sa bene cosa gli ho promesso che cosa mi ha chiesto nei prossimi video e sarà fatto adesso però non ce la faccio usiamo prodotti già visti ragazzi oggi devo sbrigarmi l'ultimo video quindi abbiamo non mi sono più rasato abbiamo una barba di sei giorni abbiamo usato lo chavette barber tools con le gillette stainless oggi nuovo usiamo il nostro chavette usiamo un altro che conosciamo benissimo lo chavette piper però con le stesse lo mette dell'altra volta che abbiamo usato sul sul barba tour le gillette stainless oggi usiamo solo prodotti che abbiamo già visto ragazzi infatti cosa non usiamo da un bel pezzo anche un mese che fermo il nostro maialino wilkinson l'ho messo a bagno dieci minuti fa dopo un mese che era secco faccio scorrere l'acqua calda ma prima dell'acqua calda armiamo subito la nostra chavette con la lametta lavata e disinfettata oggi mi devo sbrigare la rasatura fuori programma però non mi faccio mancare lo chavette ormai mi sono innamorato ragazzi dell'uso dello chavette chavette piper che monta le lamette intere ma sono più che idonee anche le mezze lamette perfetto già armato acqua calda ma perché l'acqua calda non c'è quando accendo il vino non c'è mai un attimo prima c'era non c'è ma perché l'acqua calda non c'è ricordate la pro rosa rossa non usiamo ragazzi dalla rasatura di capodanno oggi non fa così tanto a caldo la me c'è anche un bel venticello volevo usarla dopo mesi che non la uso vabbè che è una cagata perché si può usare benissimo anche in inverno in estate scusate però dai ci sta oggi fantastica mi ricorda mio nonno quando ero piccolo sentivo per la casa questi sentori di sandalo pazzeschi non sapevo di cosa si trattasse quindi il nostro wilkinson che non vediamo dalla rasatura selvaggia crema in ciotola pro rosa rossa che non vediamo da capodanno ho pensato che comunque ho tardato questi giorni non sono riuscito a fare video oggi volevo finalmente farlo e di nuovo non riesco ma essendo che devo fare la barba non è che passiamo una settimana ragazzi senza fare il video con la barba così lunga poi c'è è obbligatorio l'ultima sciacquata sapete che forse ragazzi non ho mai usato la pro rosa rossa con lo sciavetto se la memoria non mi inganna dovrebbe essere la prima volta si decisamente credo che sia la prima volta la rossa è spettacolare voglio ragazzi prima che entrassero in commercio le nuove creme in tubetto pro raso ho fatto scorta delle vecchie scorte insomma ho preso una per tipo e non ho il coraggio di aprirle forse le tengo come collezione da usare magari tra qualche anno peccato che non averle presa di più ora sento sempre più pareri discordati sì e comunque sempre più pareri negativi sulle nuove creme in tubetto pro raso assurdo rispetto alle vecchie il wilkinson dopo dieci minuti di ammollo dopo un mese fermo è già morbido un pennellino senza cioè gentilissimo nell'ultimo video abbiamo usato per la prima volta l'omega pro raso il pennello avevo devo imparare ancora ancora gestirlo avendo paura di anacquare troppo il sapone tabac il secondo passaggio di contropieno l'ho fatto un montaggio troppo secco come alcuni amici mi ha fatto notare ma è la paura non sapendo gestire ancora quel pennello la paura di anacquare troppo ma con lo chavete ci vuole un po' più era meglio più acquoso che secco ma è anche vero che dopo aver usato un pennello importante come l'omega 48 ti rendi conto un po' poverino questo pennello ti rendi conto un po' dei suoi limiti è un pennello molto più conviviale ecco con i limiti del montaggio dell'immagazzinamento dell'acqua che ha e anche del perito della perita delle setole ancora un po' di acqua ancora un po' dei cattolini che mi praticamente cambili montaggio abbastanza acquoso senza fare troppo a montare ecco la cosa che ho intanto dopo aver usato un pennello come l'omega 48 che questo wiki si intende a fare l'effetto metileva metileva del sapone speriamo di non scortarci troppo oggi lo vedo e già lo vedo il redpoint e e e e e e Grazie a tutti. Questo chavette è fantastico, è veramente ben costruito e bilanciato, come dicevo anche nello scorso video, lo chavette Barber Tours è più difficile, lotta lo usare, questo è proprio più istintivo, prendi subito a confidenza. Malgrado l'aspetto di questo chavette, che potrebbe incutere timore. Oggi vado solo con la destra, ragazzi. Queste gillette al secondo utilizzo taranciano forse anche meglio dell'altra volta, sarà il sapone, magari un po' più acquosa, che aiuta sicuramente. Grazie. Ma d'altronde ragazzi la rossa è la rossa, non dalude mai. Grazie. 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 questo Wilkinson ha il vantaggio di non immagazzinare troppo sapone non permettendoti di sprecarne, ovviamente è già esaurito vabbè che il primo passaggio è più soddisfacente sapete che vi dico ragazzi che io mi fermo qua primo passaggio di pelo e basta acqua fredda un uomo di rocca piccole rifiniture da farle le vedo ma le faccio così e premente a secco qua un po ottimo così e laviamo la lume di rocca ragazzi a 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 di mesi fa e hanno ragione fantastico bruciolo assente ovviamente perché ho fatto solo il pelo ragazzi ragazzi si conclude qua la nostra asatura questo artesia è veramente qualcosa di vigoroso questa fragranza retro però molto classica molto virile anche ragazzi io vi saluto e ci vediamo per le prossime sbarbate vi auguro buon sabato a tutti ciao a